In merito alla cancellazione dei voli Van Air Europe commercializzati dal tour operator Flymarket, la SASE, la società di gestione dell'aeroporto dell'Umbria, afferma che i riservizi non sono in alcuna misura dipendenti dalla volontà della società stessa. Qualsiasi chiarimento va richiesto direttamente al tour operator Flymarket, contattabile al numero di telefono 071-2362-006, ripetiamo 071-2362-006 oppure attraverso la mail commerciale-flymarket.it